Ringrazio tutti per la partecipazione, in particolar modo la Preside e anche gli organizzatori di questo evento. Parlo di modelli matematici applicazioni, c'è anche un sottotitolo, scienze, fisica, economia, cose del genere, che voi ritroverete durante la trattazione. Più che altro però io mi concentro, anche viste le nuove indicazioni ministeriali, mi concentro un attimo su quelli che possono essere definiti modelli differenziali, cioè quelli in cui sono coinvolte relazioni tra variazioni infinitesime di grandezze in gioco, come vedete. Ogni termine avrebbe bisogno di una spiegazione, variazioni infinitesime, c'è un'analisi tradizionale basata sui limiti, analisi non standard e così via. Diciamo che il punto di vista che io userò sarà quello dell'analisi tradizionale, in ogni caso ci sono molti punti di contatto con l'analisi non standard. In ogni caso, per ora, noi su variazioni infinitesime sono variazioni molto piccole. Non starò a puntualizzare molto sulla terminologia quanto diciamo sull'aspetto modellistico. Allora, cosa è il modello matematico? Un po' diciamo, appunto, è noto che, diciamo, come funziona la costruzione di un modello. Cioè, si parte dall'osservazione, il problema, il problema geometrico, il fenomeno fisico, però ovviamente adesso, come dirò tra poco, naturalmente ci sono tanti altri settori nei quali, appunto, la matematica fornisce dei modelli che poi, in realtà, possono interpretare la realtà, descriverla e anche, diciamo, catturare alcuni aspetti particolari. Non dico fare previsioni per quanto, diciamo, appunto, almeno nel caso del tempo, a un giorno, fino a tre giorni si riescono a fare. Però, dunque, diciamo, la previsione è sempre una cosa molto azzardata. In ogni caso, diciamo, una volta che uno ha osservato il fenomeno, in realtà, diciamo, c'è una fase di approssimazione, nel senso che si enucleano quelle che sono gli aspetti fondamentali del fenomeno. Quindi, si va dal punto di vista concettuale ad un'approssimazione. E quindi, alla fine, si tira fuori un modello matematico. Naturalmente, si tirano fuori dei risultati da questi modelli e, alla fine, si devono verificare con le conseguenze, diciamo, appunto, i risultati che sono conseguenze di questo modello. Per cui, se queste, se le osservazioni, diciamo, che sono prodotte dal modello coincidono, appunto, con i risultati, in realtà siamo, appunto, possiamo considerare il modello come un modello giusto, almeno per descrivere i fenomeni che noi stiamo osservando. Tuttavia, è naturale che, diciamo, alla fine, i modelli si superano sempre perché i fenomeni si inseriscono in classi sempre più vaste. Naturalmente, questo, diciamo, comporta il superamento di certi modelli che non significa l'abbandono, perché per certi limiti, cioè per certi aspetti e certi contesti, il modello originario, mettiamo la meccanica classica, è ancora, diciamo, valido. Tuttavia, ovviamente, diciamo, per descrivere i fenomeni, che se è altissima velocità, la velocità della luce, eccetera, ho bisogno di una meccanica relativistica. Questo non significa che non è più valida la meccanica classica, ma significa soltanto che, diciamo, abbiamo bisogno per ulteriori fenomeni di, in pratica, di allargare, di fare un altro tipo di modello. Adesso, diciamo, ci sono ulteriori settori nei quali, diciamo, l'impiego di modelli matematici, ovviamente, diventa essenziale. Con, appunto, nuove tecnologie informatiche e così via, naturalmente, adesso, diciamo, alcuni problemi, diciamo, sia ingegneristici, già prima per la verità, però anche economici, ma soprattutto nelle scienze biologiche e nella medicina, che sono abbastanza complesse da modellare, naturalmente, con, diciamo, l'aiuto dei calcolatori, dei computer, eccetera, la potenza di calcolo che si ha attualmente e della possibilità di risolvere, anche dal punto di vista soltanto numerico e non, diciamo, come siamo abituati a fare con espressioni analitiche, diciamo, le equazioni che vengono fuori dal modello, naturalmente, anche in questi settori, appunto, ormai, diciamo, la matematica è cominciata sicuramente ad esplorare nuove direzioni, nuovi fronti e io credo che in ogni team, diciamo, appunto, scientifico non possa mancare un matematico o almeno uno che abbia dimestichezza con la matematica. In ogni caso, adesso, diciamo, andiamo ad esemplificare, io tratterò, appunto, modelli differenziali abbastanza semplici, come mi è stato suggerito anche dal professor Polverino, e, vabbè, però non posso esimermi da fare una piccola introduzione, una breve introduzione sui differenziali, eccetera, e quindi, necessariamente, dovrò essere un po' tecnico in questo caso, nel senso che, se considero una funzione definita in intervallo a b, vado veloce perché sono cose note, considero l'incremento della funzione, il rapporto incrementale, so che cosa è la derivata, il limite del rapporto incrementale, vi dicevo, utilizzo le definizioni classiche. Che cosa succede? Succede che una volta che una funzione ha una derivata in un punto, ciò vuol dire, dal punto di vista geometrico, che in quel punto esiste la retta tangente al grafico. La retta tangente al grafico, di cui vedete qui l'equazione, il cursore si vede? Così appare la sopra che è selezionato. Ok, d'accordo. Allora, se noi invece di andare a considerare, diciamo, la differenza tra le ordinate corrispondenti ai punti del grafico della funzione, andiamo a considerare invece la differenza tra le ordinate, invece, sulla retta tangente, troviamo quello che si chiama differenziale. D'accordo? Siccome il differenziale alla fine è la derivata per l'incremento della variabile indipendente, e siccome la funzione x ha come derivata 1, il differenziale della funzione x è l'incremento della funzione, il delta x è esattamente dx, e quindi alla fine, diciamo, l'espressione differenziale diventa questa che sta scritta sotto. Quindi il differenziale non interpreta altro che, diciamo, la possibilità di linearizzare il grafico della curva intorno al punto in cui ci troviamo, e in realtà, diciamo, semplificare il calcolo delle differenze. Questo, per, diciamo, a questo proposito, andrebbe detto che, premessa a questo tipo di trattazione, andrebbe fatta, diciamo, una lezione, un'introduzione sulla linearità. Nel senso, che cosa significa che un fenomeno è lineare? Un fenomeno è lineare quando vale il principio di sovrapposizione e il principio di proporzionalità. Cioè, praticamente, se io sommo due cause, ottengo un effetto che è la somma dei due effetti indipendenti, e se invece, praticamente, amplifico una causa, l'effetto risulta amplificato per lo stesso rapporto di proporzionalità, d'accordo, di cui è amplificata la causa. E questo non sempre è vero. Cioè, basta che uno da una retta passa a un grafico curvo, e questo capite bene che non è vero. Tuttavia, se ci manteniamo sulla retta, se ci manteniamo abbastanza vicini, e quindi possiamo considerare il grafico una retta, questo, diciamo, ancora, nelle vicinanze possiamo considerare proporzionale l'incremento della variabile y all'incremento della variabile x. Naturalmente, se io cambio punto, cambierà la costante di proporzionalità, se il fenomeno è non lineare, d'accordo? Quindi, y' di x con 0 vale per la retta tangente nel punto di ascista x con 0. Naturalmente, cambio punto, cambierà la retta, cambia tutto. Quindi, allora, la questione è appunto questa, dal punto di vista, diciamo, grafico. E qui ho rappresentato una funzione, quindi la retta tangente, e diciamo, il fatto che dy sia uguale a y' per dx, dà luogo poi alla classica notazione di Leibniz, per cui la derivata, oltre che a essere, diciamo, indicata con y' può essere indicata come se fosse, io dico come se fosse, nell'analisi, diciamo, non standard, in realtà è, perché si introduce una quantità, diciamo, insomma, questo dx è una quantità particolare, come se fosse il rapporto tra due quantità, se non che, diciamo, appunto, quel, in realtà, dal punto di vista, diciamo, rigoroso, questo non è nient'altro che il limite del rapporto incrementale. Quindi, però, questo formalismo consente di risolvere i problemi. La differenza, l'esistenza ancora della retta tangente, ovvero della derivata, significa anche che la differenza fra la funzione e il, diciamo, la retta tangente, oppure l'incremento fatto sul grafico della funzione e l'incremento fatto, invece, sulla retta tangente, hanno come differenza questo e, che io, diciamo, che è un errore, d'accordo, e che risulta essere un infinitesimo di ordine superiore rispetto all'incremento delta x. Quindi, diciamo che queste due espressioni che io scrivo qui, y di x, l di x, più e di x, meno x, con 0, e delta y, uguale di y, più e di delta x, in realtà, diciamo, sono le definizioni di cui l'errore è nient'altro. Il fatto che la funzione sia derivabile sta in questa formuletta qui, nel fatto che questo è il limite del rapporto è 0. Cioè, laddove l'errore è un infinitesimo di ordine superiore rispetto all'incremento, allora, in realtà, diciamo, questa è effettivamente la retta tangente e questo, effettivamente, il, diciamo, al limite, il differenziale viene a coincidere con l'incremento. Ok, naturalmente, diciamo, quello che conviene fare, quando si costruiscono modelli differenziali, si guarda, si osserva le grandezze in gioco, si fa un'ipotesi sul collegamento tra le grandezze in gioco, si imposta una relazione che si scrive in maniera approssimata, ma come vedete, quando passa i differenziali, quella relazione è esatta, ottengo generalmente un'equazione differenziale, vado a risolvere e vado a vedere che cosa viene fuori. Devo dire ancora un'altra cosa. Normalmente, diciamo, adesso il matematico, quello che fa, si va a risolvere l'equazione differenziale. Diciamo, una volta è parte, è forse questo lavoro, diciamo, di andare a vedere, a costruire il modello. Ora si stanno avvicinando i matematici, c'è la matematica applicata, che appunto sta andando avanti abbastanza, e così via, e quindi il matematico si sta spostando un po' verso l'applicazione, nel senso che va incontro alle persone che hanno bisogno del modello, persone, dico, nel senso che ambiti scientifici, e così via. E quindi comincia a imparare anche le cose che sono tipiche, diciamo, delle scienze applicate, delle particolari scienze applicate per le quali sta costruendo il modello. Però in genere il matematico ha sempre fatto questo, prende l'equazione e la risolve. Ora, l'interazione con invece il mondo che possa essere fisico, medico, biologico e così via, questo consente, diciamo, in realtà in due sensi. Allora, intanto, diciamo, la scienza applicata fornisce il modello, e quindi il matematico ha, diciamo, insomma, qualcosa da studiare, se vogliamo, no? Poi il matematico appunto comincia a scrivere, fa passaggi tecnici, eccetera, si inventa i cambiamenti di variabili, eccetera, per risolvere delle equazioni e così via, però, diciamo, riceve ancora dal... se ha sempre in mente il modello che sta considerando, cioè, che può essere il fenomeno fisico o, diciamo, il particolare problema economico o di ingegneria o così via, naturalmente, da quello che accade, che dovrebbe, che si aspetta che accade in realtà, riesce ad avere anche un input rispetto alla tecnica che deve utilizzare per risolverlo. Cioè, molto spesso, appunto, non basta la tecnica in se stessa, molto spesso l'idea per risolvere una cosa viene fuori dal fatto che quel tipo di equazione deriva da un modello e che uno che si aspetta che se lascia una mela qui cade a terra e quindi, di conseguenza, agisce, fa i suoi passaggi sul modello in maniera tale che, appunto, gli debba venire questo tipo di soluzione. E quindi, in questo senso, c'è un osmosi, ovviamente, tra... viceversa, ovviamente, la matematica fornisce tante altre soluzioni che magari sono poco interessanti per quel modello, ma potrebbero essere interessanti magari perché, sa, quello si è originato in ambito fisico e, appunto, una volta risolto quel problema, eccetera, ma il matematico fa ragione in grande per cui, diciamo, molto più in astratto per cui, magari, tutti i risultati, tutte le conseguenze che ha trovato nel modello, diciamo, trovato, naturalmente, potrebbero essere utilizzate in futuro magari, non per quello ma per un altro modello quindi, insomma, prepara tutta una serie e come mettere giù le tavole logaritmiche o le cose, cioè, vabbè, ma oggi mi trocca calcolare il logaritmo di 3 e dice, vabbè, ma ora mi faccio tutti quanti quindi un giorno che mi tocca calcolare il logaritmo di 7 e io già so come devo fare. Questo è il punto. D'accordo. Allora, il primo modello che io vi presento è il modello esponenziale e questo ha un sacco di applicazioni, eccetera, e diciamo che questo numero, la prima cosa che vorrei dire è parlare di questo numero è di Eulero, di Nepero, qui lo chiamiamo più di Nepero, questo Nepero e Napier non c'è manco matematico, pare sia stato un proprietario terriero scozzese che amministrava bene i suoi terreni e quindi, diciamo, ovviamente è chiaro che si è fatta una matematica anche molto pratica e poi Eulero che è una personalità indiscussa del matematico svizzo lui sì che diciamo ha fatto un sacco di cose in ambito matematico, eccetera. Allora, diciamo, la definizione classica di E qual è? La definizione classica di E è limite per n che tende all'infinito di questa successione di numeri, 1 più 1 su n elevato all'e. Beh, uno sì, il matematico si studia questa cosa, vede che è un numero compreso tra 2 e 3 a poco a poco, a prossima, eccetera, eccetera, ottiene, come vedete sopra, 2,71828, eccetera, eccetera. Dopodiché, vabbè, come potrei appunto introdurre da un semplice problema, in un semplice problema economico, il numero A? Allora, se io prendo un capitale C, metto 10.000 euro, non ve li chiedo, per fare l'esperimento, non mi preoccupate, e ad un tasso di interesse anno R, per esempio, adesso ci ho messo anche un numero per metterci un po' di numerologia dentro, se no sono solo lettere, allora uno, diciamo, dopo un anno cosa c'ha? C'ha C per 1 più R, e quindi, facendo la moltiplicazione, viene 10.400 euro, e il numero 1 più R, la quantità 1 più R, la chiamo fattore di capitalizzazione, ok? Se invece, diciamo, io il tasso di interesse R lo uso per comporlo in termini semestrali, allora, quello che succede è che io, ogni semestre, praticamente, dopo un semestre, prendo il capitale che ho ottenuto dopo un semestre a quel tasso, che è 1 più C per 1 più R mezzi, lo reinvesto per un altro semestre, e quindi, alla fine, quello che ottengo non è più 10.400 euro, C per 1 più R mezzi al quadrato è 10.404 euro. Dopodiché, diciamo, se io invece lo compongo mensilmente, cioè ogni mese, prendo il capitale e, diciamo, lo reinvesto un'altra volta per un mese, e così via, faccio per 12 mesi, quello che esce fuori è, diciamo, quest'altro numeretto qui. Se, invece, si compone giornalmente, questa operazione la faccio 365 volte, e quello che esce fuori è 1 più R, e il fattore di capitalizzazione diventa 1 più R diviso 365 elevato a 365. Come vedete, le cifre cominciano a essere tra loro sempre più vicine. D'accordo? Siamo partiti, in realtà, da una differenza di 4 euro. Adesso stiamo a differenze, diciamo, che, diciamo, entrano nell'euro. Ed è chiaro che per ogni interesse nominale il capitale cresce maggiormente se si riduce il periodo di composizione. però, a un certo punto, quello che succede, e quindi, se si componesse l'interesse in modo continuo, d'accordo, significa, praticamente, mandare, scrivere qui, 1 più R, il fattore di capitalizzazione U più R su N, elevato a N, e mando a N all'infinito, quello che ottengo è esattamente, in pratica, il tasso, diciamo, il capitale che otterrei componendo in maniera continua al tasso di interesse R la mia somma. E quindi, alla fine, appunto, vedete che rispetto a prima, diciamo, sono cambiati i tre centesimi. Quando N è molto grande, questo vi fa capire che noi arriviamo al numero E, sostanzialmente. D'accordo? che può essere considerato, dunque, il fattore di capitalizzazione. Se noi, viceversa, adesso vogliamo cercare di far capire a qualcuno che cosa è il numero E, uno potrebbe dire che è il fattore di capitalizzazione che corrisponde al tasso di interesse R uguale 1, perché qui, al posto di R, ci dovrebbe essere 1, e significa 100%, d'accordo? Composto in modo continuo. Se lo compongo in modo continuo, significa mandare N all'infinito e quando mando N all'infinito ho esattamente la definizione del numero E che ci hai oprì. Vabbè, allora, passiamo oltre, questo è giusto per dire che cosa è, passiamo oltre, crescita di una popolazione. Allora, questo saggio di, il primo modello, ancora, modello esponenziale dovuto a Malthus. Malthus, diciamo, questo saggio sul principio di popolazione nel quale espresse, appunto, le sue teorie, Thomas Robert Malthus, diciamo, fu abbastanza contestato e ci fu un'accesa con discussione fin da quando, insomma, fu pubblicato. In realtà, Malthus diceva questo, diciamo, aveva a cuore la sostenibilità, appunto, dello sviluppo, che è un problema abbastanza attuale, ce l'aveva a quei tempi, e dice, la popolazione umana cresce in modo geometrico, questo era il problema, mentre le risorse a sua disposizione aumentano solo in modo aritmetico. Latente, cioè il fatto che, praticamente, la crescita in modo geometrico significa crescere tipo A elevato a N, con A maggiore di 1, immagino, che è facile, perché se A è minore di 1, ovviamente, per N tende ad infinito tende a 0, e invece, le risorse a sua disposizione crescono in modo aritmetico, quindi come N per A, questo sottintende il fatto che la crescita esponenziale è molto più forte che non la crescita, diciamo, di tipo lineare, d'accordo? Ma di qualsiasi potenza, in realtà. Quindi, a questo punto, qual è il modello di crescita della popolazione di Maltes? Il modello di crescita è il seguente. Uno, praticamente, suppone che la variazione del numero di individui della popolazione sia, ovviamente, proporzionale, che cosa? Al numero di individui che sono presenti ad un certo tempo T, e poi, ovviamente, al tempo in cui osserva, diciamo, questa crescita. Quindi, se chiama il tasso di crescita che poi non è da considerare appunto esattamente il tasso di crescita perché tiene in considerazione nascita e morte, ovviamente, è un bilancio tra nascita e morte. Comunque, se in maniera netta questo bilancio dal luogo a R come tasso di crescita, noi abbiamo questo modello, ΔN all'incirca R per N per ΔT, d'accordo? ΔT è il tempo. Se io passo ai differenziali, ecco qui, scrivo precisamente in maniera esatta, dN uguale R per N di T e ottengo l'equazione differenziale dN di T uguale R per N. Ok? Naturalmente, se R è positivo, voi sapete che questa è la soluzione esponenziale, la soluzione esponenziale è facile da risolvere, qui in questo caso, semplicemente perché uno sa che la derivata dell'esponenziale esponenziale stessa deve riaggiustare soltanto la costante R e quindi, diciamo così, la soluzione C per E elevato a R T è naturalmente se R è positivo o un'esponenziale decrescente, se R è negativo o un'esponenziale decrescente della popolazione va a scomparire e invece se R è uguale a 0 la popolazione sta evidentemente in uno stato di equilibrio e quindi rimane costante la nascita e morte sono la stessa cosa. Quindi, modelli molto semplici da... Naturalmente questo quando io vado a risolvere l'equazione differenziale è un po' quando faccio sempre l'integrale non ho una sola soluzione ma ho infinite soluzioni questa è del primo ordine se fossero di ordine superiore avrei più soluzioni e naturalmente la soluzione se voglio avere un'unica soluzione chiaramente devo fissare quella che si chiama appunto la condizione iniziale e quindi la popolazione all'istante t uguale a 0 se la popolazione all'istante t uguale a 0 la chiamo N0 naturalmente ci avrò la soluzione N0 per E elevato a RT questo modello che pure risulta essere valido diciamo per piccoli numeri e così via di popolazione tuttavia si espone a delle critiche la popolazione cresce indefinitamente e però ovviamente uno sa sia per le serie storiche sia perché immagina che se la popolazione è confinata a stare in un ambiente per quanto vasto sia naturalmente diciamo che può essere sostenibile un certo livello di popolazione solo in quanto è compatibile con le risorse dell'ambiente e quindi diciamo questo modello di crescita esponenziale che poi esplode all'infinito e cresce indefinitamente certamente non va né con le serie storiche in quello osservato né con appunto il senso il buon senso per cui diciamo vedremo dopo come si corregge adesso lo stesso modello esponenziale può essere usato per la radioattività e questa volta il tasso non c'è più il tasso di crescita ma c'è il tasso di decadimento e quindi diciamo il decadimento radioattivo è appunto l'insieme di processi attraverso i quali questi nuclei stabili appunto vanno verso una situazione più stabile mettendo le radiazioni naturalmente diciamo man mano che si consumano questi nuclei stabili appunto il numero di atomi radioattivi diminuisce e che cosa posso pensare che sia di nuovo la stessa cosa che la diminuzione sia proporzionale al numero di atomi che ci sono al tempo t per l'intervallo di tempo in cui io osservo il decadimento ancora una volta rifacendo i stessi conti mi trovo stavolta dn in dt uguale meno lambda n dove suppongo che lambda sia costante e ancora una volta c'ho una soluzione di tipo esponenziale questa volta è chiaro che la soluzione è decrescente ora su questo poiché mi dicevano di allora c'è da dire che è molto importante il tempo di di mezzamento d'accordo tau o mezzo che ovviamente può essere legato alla costante lambda semplicemente appunto imponendo che al tempo tau un mezzo la popolazione sia diventata la metà da questo viene fuori appunto il legame tra il lambda e la costante di dipensamento a questo punto mi diceva il professor Polverino di porre qualche problema segnatevi eccetera eccetera e io facevo riferimento alla questione del carbonio 14 per la quale diciamo questo è un modello molto semplificato però tuttavia diciamo che sicuramente dà l'idea di come funzionano le cose allora quando in un organismo vivente io ho una certa frazione di carbonio 14 rispetto al carbonio totale per evitare tutti questi problemi ho chiamato CDT questo questo sarebbe il nostro NdT se volete per semplificare un po' le cose però in realtà è una frazione rispetto al carbonio totale che è pari a circa C0 1,2 per 10 alla meno 12 per cui è un numero dimensionale proprio per questo perché è una frazione non è il numero e questo perché l'organismo vivente è in equilibrio con l'ambiente circostante e così via questa è la frazione alla fine della vita invece diciamo il carbonio 14 che è instabile comincia a decadere cioè nel senso quando muore l'organismo naturalmente non naturalmente diciamo quello che si osserva si osserva che questo carbonio 14 in realtà decade decade con quella legge di cui si sa il tempo di dimezzamento è facile quindi trovare il lambda in maniera del tasso di decadimento per quella diciamo per quella relazione che c'è tra tasso di decadimento e tempo di dimezzamento e quindi uno trova la legge di decadimento questa è la prima cosa la seconda a quanto ammonta la concentrazione a distanza di 1,5 tau e mezzo allora la domanda che faccio qui in realtà sembrerebbe che richieda l'uso di calcolatore eccetera un'altra cosa io in realtà non 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 richiede l'uso perché se uno comincia a giocare un po' con l'esponenziale eccetera le proprietà dell'esponenziale se faccio e elevato al logaritmo di 2 tanto per questo è 2 e quindi diciamo che se io diciamo uso un po' di accorgimenti riesco a tenere l'espressione abbastanza semplice in maniera tale che facci i calcoli anche a mano però non è demonizzabile l'uso del calcolatore perché in questi casi la bravura sta nel impostare la soluzione non tanto nel fare il calcolo questo è il punto il calcolo può fare uno gli da 30.000 esponenziali 40.000 logaritme e così via e loro impareranno quello che è importante qui è cercare di capire che devo fare per rispondere alla domanda e quindi diciamo anche se uso il calcolatore eccetera certo imparare a cavarsela anche a mano in maniera approssimata e quindi accettare però la soluzione approssimata non è che uno spacca il millesimo tanto in queste cose qui diciamo non è questo quello che è importante nei modelli diciamo un errore di un per cento eccetera sulla cosa e così via non è che insomma ci importa molto l'importante è rimanere e poi determinare l'età di un reperto questo è un problema inverso nel quale si rileva una concentrazione di carbone 14 pari al 10% la concentrazione iniziale quindi uno conosce il modello quant'è che diventa il 10% d'accordo e naturalmente diciamo perché perché appena muore cioè nell'istante in cui muore la concentrazione da prendere come concentrazione iniziale è quel C0 perché è quello che lui ha in equilibrio con l'ambiente lui muore decade a un certo punto diminuisce diciamo a un decimo la concentrazione di carbonio è chiaro che si può risalire naturalmente all'età del reperto d'accordo? ok quindi questo un primo problema poi naturalmente anche qui vado veloce velocità media siete maestri in queste cose e questo è il modo in cui naturalmente si introduce la derivata è un altro modo di introdurre la derivata se io prendo la curva oraria o legge oraria e così via e vado praticamente voglio spiegare la derivata lì io comincio dalla velocità media in un intervallo faccio tendere l'intervallo di tempo a zero e dico che quella è la velocità istantanea quindi diciamo la velocità della curva spazio-tempo viene ad essere in quell'istante viene ad essere la pendenza della retta tangente quindi un altro modo di interpretare la retta tangente se volete naturalmente così faccio per l'accelerazione parto dalla velocità istantanea in un tempo in un istante di tempo un po' successivo faccio il rapporto incrementale della velocità e poi passo al limite e quello che ottengo naturalmente è che la derivata prima della velocità che è anche la derivata seconda dello spostamento ok quindi diciamo questo è se io volessi trovare un modello differenziale di questa equazione e questo è diciamo voi sapete la dice che la variazione della quantità di moto è esattamente uguale all'impulso della forza d'accordo quello che fa male non è tanto diciamo è la variazione della quantità di moto non è tanto la forza siamo tutti soggetti alla forza di gravità ma sfido chiunque diciamo naturalmente a diciamo a tenere in testa un mattone così diciamo se lo mette così in testa un mattone di un chilo e invece farselo cadere dal decimo piano sono due cose diverse quando si ferma in mattone la variazione della quantità di moto è molto molto questa ok moto di un corpo in prossimità superficie terrestre anche questo questo è un po' legato a questo problema che è stato dato per simulazione e così via vabbè diciamo ricavare la legge del moto non è che ci vuole arco di scienza io prendo un sistema di riferimento con l'asse verticale verso l'alto naturalmente questa è l'unica notazione da fare y prendo l'asse verticale quindi diciamo la forza che agisce è uguale a meno m per g d'accordo questa è siccome le y positive le prendo verso l'alto la forza verso il basso è questa la m si semplifica ottengo equazione differenziata questa volta è il secondo ordine in cui si sa che diciamo per avere soluzione unica devo assegnare la posizione e la velocità iniziale dopodiché alla fine ottengo diciamo la mia la mia formuletta del moto uniformemente accelerato con una certa velocità iniziale e in particolare appunto ci sono delle formule che uno si può ricavare là per là ma diciamo non è necessario che uno le ricordi perché appunto ci sono tutti i trucchetti possibili in genere cerco di far ricordare il meno possibile perché in realtà non è una buona abitudine si ricavano in un secondo e invece viceversa immagazzinare tutte queste formule e così via uno si deve portare a presa è come portarsi uno zaino pesantissimo e invece uno si porta uno zaino leggero però diciamo è flessibile quindi al momento riesce a trovare la formula giusta d'accordo? e diciamo quello che succede appunto per un corpo in caduta libera è che partendo da un'altezza y0 naturalmente va a finire a t star qui c'è diciamo l'idea della velocità che è meno la tangente di quell'angolo alfa prendendo quell'angolo alfa come positivo ovviamente ok problema 2 anche questo diciamo abbastanza semplice lascio cadere un sasso da fermo in un pozzo dopo un tempo di 3,5 secondi sento il rumore dell'impatto con l'acqua del fondo questo mi scuso per qualcuno che abbia già sentito questa cosa qui ma ci sono cose ovviamente anche diverse eccetera in un precedente incontro allora il problema che si pone è questo trascuro la resistenza dell'aria metto la velocità del suono pari a 340 metri al secondo quant'è eccetera anche qui insomma uno può ragionare in termini approssimati perché dice oppure ragionare con un calcolatore non è questo ripeto non è il problema non è fare i calcoli con la massima precisione ma avere il risultato diciamo che sia appunto compatibile con il problema cioè che dia un'idea di quello che ci si deve aspettare al problema quanto tempo poi naturalmente uno ci si mette con calma se effettivamente deve misurare l'altezza del pozzo c'ha tutti strumenti sistemi eccetera fa il primo conto lui lo fa controllare un altro una cosa fa un altro calcolatore ci sta tanto naturalmente diciamo la precisione insomma richiede un po' di tempo quanto tempo impiega il suono a raggiungere l'imboccatura del pozzo si chiede quindi diciamo la profondità quindi quanto tempo impiega il suono a raggiungere l'imboccatura del pozzo quale valore si otterrebbe per la profondità se la velocità del suolo fosse infinita cioè se istantaneamente appena tocca sento il rumore e vabbè qua ci ho messo date incognite ma perché così eccetera questo per esempio potrebbe essere un problema poi possiamo complicarci un po' con la vita con la balistica sempre semplificata senza troppe fronzoli allora prendo un proiettivo con velocità v0 iniziale v0 e angoli di proiezione fi dovrebbe esserci una figura da qualche parte e la traiettoria in questo caso si viene ad ottenere come la sovrapposizione ma questo avete sicuramente tenete sotto mano perché c'è stato di simulazione come sovrapposizione di un moto orizzontale che è rettilineo uniforme e un moto invece verticale che è sempre uniformemente accelerato verso il basso il mio sistema di riferimento con la y è verso l'alto e quindi naturalmente prego mi metto il segno meno lì allora se io ricavo il tempo dalla prima naturalmente e inserisco nella seconda ottengo una relazione tra y e x che mi dà l'equazione della traiettoria che cosa per esempio se volete la gittata la gittata è quando praticamente ricade a terra il proiettile d'accordo diciamo e voi naturalmente la potete ottenere mettendo y uguale a 0 e quindi trovando la x in quell'espressione ancora una volta diciamo questa espressione per la gittata quello da diciamo la cosa da osservare devo finire la gittata ha questa espressione questo fa capire che al variare dell'angolo di proiezione l'inclinazione iniziale il massimo della gittata io lo ottengo a 45 gradi siamo un modello semplificato perché quando tirate un proiettile si alza un po' pure la canna quindi e poi c'è la resistenza dell'aria e tutto il resto e così via quindi diciamo che poi il problema insomma si deve correggere per avere risultati giusti e non bombardare zone diciamo appunto che non vanno bombardate ok quindi la massima gittata l'ottengo a 45 gradi qui appunto si fa vedere vari angoli di proiezione per cui a 45 gradi io ottengo la massima gittata e infatti faccio vedere che a 30 diciamo arrivo fino a un certo punto dove sta qui è lo stesso ho la stessa gittata che va a 60 gradi passando per 45 la gittata aumenta e poi diminuisce di nuovo ritorna a questo e poi che c'ho più 75 gradi pure ho messo ok è giusto per capire c'è il tempo di volo che sta lì diciamo il tempo per il quale rimane in aria il corso una volta che è facile da calcolare basta mettere x per esempio uguale alla gittata e uno ottiene il tempo di volo che è problema 3 è un giocatore di calcio stavolta diciamo andiamo a cose meno cruente invece che i proiettili parliamo di palle di calcio colpisce la palla con un angolo di 30 gradi rispetto all'orizzontale è una velocità iniziale 72 km all'ora ho messo 72 perché è facile andare a metri al secondo perché per andare in metri al secondo basta dividere per 3,6 d'accordo quindi questa è un'altra cosa che va appunto e quindi naturalmente si chiede l'altezza massima raggiunta dalla palla naturalmente questo va premesso tutta la costruzione della traiettoria eccetera dell'equazione del moto la distanza orizzontale percorsa dalla palla il tempo di volo in aria c'è tutte le forme che abbiamo scritto prima e la velocità della palla nel punto di arrivo questo diciamo stiamo supponendo che appunto la cosa sia libera nel senso abbiamo questo campo sconfinato per cui tiriamo la palla ritorna a terra giusto? però supponiamo che questa è un po' la variazione supponiamo che il calciatore si trovi a 30 metri di distanza dalla porta e calci nella direzione della porta quindi tra i due palli ci sta la porta è alta 2,44 metri e voglio sapere se la palla entra in porta oppure no questo è il punto e ancora se la partita si giocasse su Marte dove la cessione di gravità invece è circa un terzo di quella che succederebbe come tutte queste domande come si risponderebbe naturalmente su questo si può fare un laboratorio con i ragazzi metterli un po' farsi grafici e cose eccetera e così via a questo punto andiamo alla correzione appunto dell'equazione logistica andiamo alla correzione del modello esponenziale per la crescita delle popolazioni dinamica delle popolazioni cosa a che è dovuta questa correzione a questo belga Verlst che non so se sia noto per altre cose ma per questo sì in cui dice questo in realtà diciamo l'obiezione di fondo accoglie l'obiezione di fondo che è quella che praticamente se io se la popolazione vive in un certo ambiente c'è un limite dovuto alla compatibilità con le risorse che ci sono nell'ambiente quindi sviluppo sostenibile e qual è dal punto di vista adesso come ragisco dal punto di vista matematico per fare questa correzione per fare questa correzione io impongo che ci sia compatibile con l'ambiente una popolazione limite il massimo che può sopportare quell'ambiente per le risorse che riesce a fornire e chiamo K e in pratica faccio in maniera tale che tra virgolette il tasso di crescita sia sempre più basso man mano che mi avvicino alla popolazione limite infatti voi avete R che era il vecchio tasso di crescita poi avete N che ci deve essere il numero di individui della popolazione ma in realtà poi avete quest'altro fattore che è 1-N su K che vi va a modificare se moralmente vi va a modificare il tasso di crescita R che diventa alla fine R per 1-N su K man mano che N si avvicina a K 1-N su K si avvicina a 0 e voi capite che man mano che mi avvicino alla popolazione limite insomma io mi modero un po' diciamo a crescere d'accordo? in realtà questa è la minima correzione possibile perché siamo passati al secondo membro da un polinomio di primo grado a un polinomio di secondo grado cioè questa è la prima correzione possibile la più semplice la più ovviamente diciamo questo col senno di poi Verus l'ha fatta lui per primo quindi diciamo l'ha fatta insomma tutte queste cose e questo in realtà diciamo non è più appunto non ha più la soluzione esponenziale di prima è un po' diciamo più complicata ma non di molto perché questa è un'equazione a variabili separabili io so che diciamo ormai le equazioni differenziali entrano a pieno titolo nei programmi e quindi naturalmente questa non è manco una delle più scombinate nel senso che nel secondo membro vedete le derivate si fanno rispetto al tempo nel secondo questa è un'equazione anche come si chiama si dice autonoma nel senso che non dipende vedete che non dipende dal tempo il secondo membro quindi è abbastanza semplice da risolvere si è a variabili separabili nel senso che ah qua c'è il disegnino insomma questa però vale per tutti i tipi di popolazione di cose eccetera sia per popolazione umana e sia per culture di batteri cose eccetera accennavo prima a biologia e così via questi sono esattamente i modelli che loro utilizzano magari potrebbero essere anche un po' più sofisticati comunque ricordo che cos'è un'equazione a variabili separabili scritta in termini sempre di y e x come variabile dipendente e indipendente naturalmente consente sempre interpretata in maniera giusta i differenziali e cose eccetera senza storcere troppo il muso sul se sia troppo rigoroso oppure no ma in realtà è così diciamo se io intendo questo di y come il differenziale della funzione y di x e quel b di y come b di y di x questo è esattamente quello qualcuno storce il muso e dice ma sono due variabili diverse no perché la y è legata alla x quindi quando quindi integro tutte e due e ottengo una reazione tra x e y dovrei ricavare y di x l'equazione logistica usa esattamente quello che è importante è il metodo adesso risolvere in questo caso intanto osservo che ci sono due soluzioni costanti n uguale 0 se è 0 non si muove niente n uguale k se la poluzione sta già in equilibrio non è che non ci sono nascite e morte ma nascite e morte sono tali da compensarsi cioè rimango piatto chiaramente la cosa si muove se n è maggiore o minore di k n all'inizio è maggiore o minore di k naturalmente cioè la popolazione naturalmente cresce o decresce a seconda di allora separo le variabili naturalmente posso voi sapete che si può dividere queste in frazioni parziali ok integro qui c'è logaritmo naturale dopodiché in pratica impongo la condizione iniziale sono i soliti passi inutile e alla fine ottengo più che altro mi ci tengo diciamo a esplorare un attimo questo modello nel senso di andare a vedere dal dedurre dal modello matematico quali sono le caratteristiche di questa curva che è la soluzione questo è quello che mi interessa i conti i passaggi questi qua si fanno una volta naturalmente è chiaro bisogna saperli fare però se noi parliamo di modelli la nostra aspettativa è quello che la matematica ci dia delle informazioni appunto su quello che accade realmente allora quello che succede così quindi entrano in gioco tre parametri come voi vedete il zero è la popolazione iniziale k è la popolazione limite r è il tasso di crescita diciamo d'accordo e allora a questo punto vabbè si chiede una cosa sulla base questo problema è sulla base semplicemente letterale del formale e così via questa è una funzione ma se voi avete in mente da che quale tipo di problema deriva questa funzione voi a queste domande riuscite a rispondere meglio che come se io vi dessi questa come y uguale una certa funzione di x e voi doveste dire se a è maggiore di questo è così se a è minore di questo invece se voi avete in mente la popolazione la popolazione limite la popolazione iniziale e così via voi cominciate a guardare a capire questo e a discutere questo modello già con un orientamento allora per ottenere una descrizione più accurata è opportuno ovviamente calcolare anche la derivata seconda la quale non è detto che si debba calcolare una volta trovata la soluzione perché come posso ottenere la derivata seconda e naturalmente la posso ottenere io qui ho la derivata dove sta la derivata prima è proprio il problema ecco qua se derivo questo ok se derivo questo ottengo che so io r per n' per 1 meno n su k più eccetera eccetera ci metto l'espressione di n' dentro che è di nuovo questa e quindi ottengo immediatamente senza dover sapere qual è la soluzione ottengo la derivata seconda come ragiono sulla derivata seconda sulla derivata seconda ragiono appunto in questo modo voi capite bene che qui c'è k mezzi meno n questo fattore k mezzi meno n naturalmente viene positivo se n è minore di k mezzi viene negativo se n è minore di k mezzi e viene 0 se n è uguale a k mezzi ora se la mia popolazione iniziale è minore della metà della popolazione limite quello che succede è questo qui parte inizialmente con derivata seconda maggiore di 0 quindi parte convessa e quindi abbiamo una di queste curve che stanno qui giù parte convessa vedete queste diciamo a guardare la soluzione voi capite subito che quando faccio il limite per t che tende all'infinito che cosa viene viene k è un asintoto orizzontale perché questo è un esponenziale decrescente è alla meno rt quando t tende all'infinito questo termine qui tende a 0 quindi c'ho n è 0 per k diviso n è 0 quindi k quindi vado all'asintoto k quindi immaginate di partire una popolazione inferiore ok alla popolazione limite allora voi partite convessi ovviamente se n è minore di k mezzi quindi se sto alla metà della popolazione limite e invece ovviamente partite già concavi vedete questa qui lilla questa curva lì partite già concavi già vi state avvicinando all'asintoto se la popolazione n 0 è maggiore di k mezzi quindi questo diciamo è un ulteriore ragionamento qualitativo che cosa succede se io partissi da n maggiore di k vedete voi avrete un tasso ovviamente decrescente quello che andate a fare è alla fine è andata a raggiungere la soluzione di equilibrio n uguale k come vedete tutte le soluzioni tendono per t che tendono all'infinito alla soluzione di equilibrio quelle per cui n 0 è minore della popolazione limite per t che al passato tendono come asintoto orizzontale a 0 d'accordo ritorno al passato ok d'accordo quindi questo è diciamo l'idea di come si può discutere quindi se partite al di sopra e voi chiaramente cosa al di sopra della popolazione se voi partite al di sopra della popolazione limite cosa potete ottenere qui ottenete una curva di questo genere questa è qui al di sopra che è facile insomma questa è una violetta poi la verde e così via sono tipo queste naturalmente se partite al di sotto avrete quello che in gergo i biologi chiamano sigmoide perché c'è questa forma di sigmo eccetera e appunto questa avvicinarsi asintoticamente alla soluzione equilibrio n uguale k allora questa potrei pensare a un problema numero 5 su questo persone c'è un virus molto contagioso diciamo descritto la curva logistica in funzione del numero t di mesi eccetera da cui praticamente è partita l'epidemia al momento iniziale ci sono 200 persone infettate dopo un mese aumentano a 1000 alla fine il numero si stabilizza a 10.000 vuol dire che questo è il numero limite d'accordo e quindi ricavare i tre parametri cioè sono tre condizioni come vedete che noi mettiamo è chiaro che da queste dovremmo ricavare i tre parametri che poi definiscono la curva e quindi poi alla fine disegnare e poi diciamo si può disegnare la curva ma in più diciamo appunto si può poi risalire dalla curva a quante persone sono state infettate dopo tre mesi una volta che uno sa la cura il suo modello se l'è scritto da quel modello ricava tutte le informazioni che vuole dopo tre mesi che è successo se deve fare un'indagine per qualche motivo di chi ha colpe chissà che cosa allora uno dice a me serve dopo tre mesi là è successo la cosa e con quale rapidità stava variando il numero in quel momento di infetti quindi la velocità di io non so se ho ancora tempo se ho ancora tempo allora ho problemi di ottimizzazione perché un'altra diciamo di quelle se provi di simulazione riguardava cerca di massimo minimo non so che c'è allora qui sono solo problemi il problema numero sei è determinare la forma più economica diciamo di costruzione della lattina cilindrica io ci ho messo 33 cc perché è la lattina di coca con perciò ok normalmente si utilizzano pure di birra eccetera e supponendo che il materiale diciamo tutte le parti della lattina siano fatte lo stesso materiale io voglio sapere praticamente qual è la forma migliore nel senso che minimizza il costo e allora questo è un problema di carattere geometrico nel senso che devo minimizzare naturalmente che cosa la superficie totale a volume fissato a volume fissato se invece io suppongo come cambia la soluzione se suppongo invece che le due basi siano le voglio fare di materiale più resistenti perché chiaramente diciamo appunto è una cosa superficie laterale una cosa sono le basi e in questo caso diciamo come cambia rispetto a prima la soluzione naturalmente la soluzione sarà diversa il problema di minimo sempre sarà un problema di minimo di costo ci sono delle parti che costano due volte un'altra parte quindi bisogna impostarlo per bene altro problema questo un uomo in grado di correre a velocità doppia rispetto a quella con cui riesce a notare questo diciamo probabilmente è noto trovandosi in un punto A in riva al mare deve raggiungere un punto B in acqua a distanza di 20 metri dalla riva nel penor tempo possibile allora si fanno vari casi da quale punto C della riva deve tuffarsi dopo aver corso verso il punto B' che è naturalmente diciamo il punto in cui si realizza la distanza minima tra punto B che deve raggiungere in acqua B ho messo per boa e la riva d'accordo? e va beh allora se varie in varie ipotesi si fa se B' dista 20 metri dal punto A se B' dista 30 metri eccetera per quali distanze poi si chiede alla fine del punto B' da A è conveniente che arrivi al punto B' e poi si tuffi cioè che arriva prima diciamo alla perpendicolare rispetto al punto dove deve stare e poi si tuffi ecco anche qui diciamo ovviamente il problema è un problema di minimo credo che ah no ce ne è stato un altro in questo caso questa è una sorta di problema isoperimetrico isoperimetrico al contrario in realtà diciamo il triangolo di perimetro minimo tra tutti i triangoli di base AB fissata è area fissata se l'area è fissata della base è fissata è fissata all'altezza questa è diciamo una prima osservazione da fare perché viene più facile così quindi una volta che uno si è fatto il modello e questo disegnino naturalmente deve andare a vedere quante ci sono varie possibilità cioè ovviamente diciamo deve raggiungere questa linea perché altezza è H e poi deve andare all'altro vertice B quindi A deve andare in C che sarà uno dei punti di questa linea tratteggiata superiore e poi deve tornare in B e bisogna vedere qual è il percorso minimo diciamo perché la base AB è fissata questo è alla base diciamo se io riesco a risolvere se io conosco la legge della riflessione della luce in realtà questo problema lo risolvo subito perché diciamo la soluzione di questo problema è la stessa che è la soluzione di tempo minimo cioè la legge della riflessione della luce che percorre il tempo minimo per andare da punto A al punto B dopo essersi riflessa in un punto C dello specchio che corrisponde alla linea orizzontale verde infine ancora sul principio di tempo minimo guardate bene in questo caso siccome la velocità è sempre la stessa il tempo minimo corrisponde al percorso minimo non è la stessa cosa il tempo minimo nel secondo caso in cui invece c'è la legge della rifrazione in cui naturalmente due velocità in due mezzi diversi sono diverse quindi bisogna capire praticamente diciamo che relazione c'è tra l'angolo di incidenza e l'angolo di rifrazione una volta che io so qual è la velocità della luce nel mezzo A e qual è la velocità della luce nel mezzo B quello che risulta è seno di diviso seno di R come voi sapete la legge di Snell è questo io ho preparato questi se ci sono domande grazie grazie a tutti grazie a tutti